La Roma vince per 3 a 1 contro l'Udinesi e si aggiudica 3 punti fondamentali per la classifica Quota 21 punti appena raggiunta, stacca la Lazio di 4 punti dopo la sconfitta contro la Salernitana E in vista di un Tour de Force clamoroso in campionato e in Coppa sono 3 punti pesanti Per come sono arrivati in una partita dura, complicata in cui la Roma ha rischiato Ha rischiato anche di passare in svantaggio, è passata in vantaggio al trentesimo Grazie ad una zuccata di Gianluca Mancini si è fatta riprendere nel secondo tempo Datoven Ma poi Paolo Di Bala ed il solido Stefano Sciarawi, mister novantesimo minuto Chiudono e archiviano la questione E' una vittoria che ci riempie veramente di positività perché è una vittoria che arriva contro una squadra organizzata Arriva in un modo comunque forte, con una reazione forte da parte dei giallorossi Che negli ultimi 10 minuti, come hanno dimostrato fare in tutto il campionato Riescono a riprendere le partite e riescono a confermarsi comunque nelle zone alte della classifica Andiamo a vedere le pagelle Rui Patrizio non una grandissima partita Rimango sempre dell'idea che possa fare di più Specialmente in alcune occasioni, anche in occasione del gol Qualcosina in più me la sarei aspettata, diciamo un 5-5 più In difesa, Llorente, bravissimo, il solito Llorente che spicca nel trittico di difensori 7 per lui, Indica e Mancini invece per Indica una sufficienza Anche per Mancini sarebbe una sufficienza Però il gol comunque è un plus per la sua prestazione Quindi 6-5 Per Spinazzola e Carstop Non una partita eccezionale Entrambi calano nel secondo tempo Due sufficienze Cristante e Pellegrini Il ritorno di Pellegrini lì in mezzo al campo Per Pellegrini una sufficienza Una partita senza particolari lampi Cristante invece una buona partita Non mi è dispiaciuto Per lui 6-5 Poi Edoardo Bove Non una partita malvagia Anche lui Nulla degno di nota Però l'ha sempre su ogni pallone Quindi un 6 più sicuramente meritato Lì davanti Di Bala e Lukaku L'assist per il gol decisivo Per il secondo gol decisivo E l'autore del gol Paolo Di Bala Per Lukaku Un 6-5 Perché alla fine anche se non ci ha messo il gol Lo zampino sul risultato Ce l'ha messo E per Paolo Di Bala Che nonostante tutto Anche un periodo di forma Forse non all'altezza Quello del derby Quello dell'ultimo mese Però arriva una risposta importante Un inserimento che regala Sostanzialmente i tre punti E poi menzione d'onore Possiamo dire la classica Menzione d'onore Per Stefano El Ciarauvi Che al novantesimo Mette il suo zampino Così come con la nazionale Così come ha sempre abituato I tifosi giallorossi Dalla panchina È una risorsa fondamentale Ora testa Subito alla prossima partita Trasferta di Sossuolo Altrettanto complicata Bisogna proseguire così Perché poi a dicembre Ci sarà veramente un tour de force Ragazzi abbiamo Fiorentina Juventus Napoli Milan e poi Atalanta Si salvi chi può